Insomma se siete appassionati di calcio sicuramente ma io sono sicurissimo che sarete pronti per il match di sabato contro il Deren oppure quello di domenica contro il Ferroviario Maputo. Ecco no se non avete mai sentito parlare di queste squadre il Ferroviario Maputo è un bellissimo nome di una squadra se non avete mai sentito nominare queste squadre è perché evidentemente non mi seguite la Premier League della Mongolia oppure la Mozambola il campionato di Serie A del Mozambico ma perché dovreste seguire queste squadre cioè questi campionati? E perché ragazzi siamo anche lì c'è una squadra di Milano che milita all'interno di questi campionati e anche nella MFL che è il campionato della Macedonia che però quello è appena finito mi spiace se mi parla a settembre. Chi è questa squadra? È il Brera Calcio e abbiamo qui il manager il club manager buongiorno benvenuto come va? Tutto bene grazie grazie per essere qui. Allora il Brera Calcio è un nome storico del calcio milanese Brera insomma una zona una squadra che ha avuto tante vicissitudini pelli mi verrebbe da dire proprio però poi alla fine è rimasta comunque legata a Milano Assolutamente La portiamo anche nel mondo Esatto come Armani Giusto giusto No sicuramente no in realtà è un nome che è molto addisonante Brera Calcio ma ha meno di quanti anni di vita di quanto si possa pensare nel senso che mio padre tra l'altro la fondò nel 2000 che sembra una vita fa ma alla fine è sempre lo stesso secolo E a fondo nel 2000 eravamo in serie D riaprimmo l'arena civica dopo 40 anni che non ci giocare più nessuno a calcio anche se adesso è un po' trending giocare a calcio in arena civica Fate infatti Avevamo Walter Zegra che aveva appena smesso di giocare come allenatore che è un po' come avvene adesso Buffon che ho fatto i dovuti paragoni E diciamo da lì poi comincia tutta un'esperienza nel calcio direttantistico milanese purtroppo sempre un po' più a scendere che a San Lina Quindi da lì dalla serie D siamo andati un po' in giù Non è solo un mondo facilissimo da scalare no giusto Leonardo No no soprattutto quando ti approcci già mio padre iniziò in serie D così perché diceva così sono più vicino al professionismo però in realtà chi conosce il calcio direttantistico sa quanta difficoltà c'è nell'essere in serie D nel arrivare al massimo campionato direttantistico Infatti appunto lo sperimentammo sulla nostra penne Leonardo Leonardo Leotti appunto club manager giusto questa è la tua Ecco avete però ultimamente pensato una bella pensata nel senso che la cosa interessante è che in questo momento nel mondo ci sono dei tifosi oltre a quelli di Milano che possono ti fare Che ti fanno berrera calcio proprio berrera calcio non è che è un franchising ma l'avete chiamato No non è l'inter Miami che non ha connessione con l'inter Ecco infatti cioè non è che avete il nome no è proprio la vostra società Siamo noi siamo noi siamo noi Tre campionati nel mondo? Tre campionati nel mondo Ok E si sono tre campionati nel mondo e non del mondo Non è che vincono i campionati nel mondo No Però chissà che magari Chissà che non vince Speriamo prima di spostare quel Nel in Della Esatto esatto Noi a differenza del Nel Madrid siamo pronti per il mondiale per club Campioni nel mondo invece non campioni del mondo No sì In realtà appunto dopo 2000 Per 23 anni siamo stati nei direttanti a Milano Facendo tantissime cose adesso Anzi ti ho portato un libro Ah un libro anche wow Questo è il libro che non so se si può mettere a favore della camera Allora la terza scuola di Milano Storie e idee del Brera Football Club Narrate appunto dal suo fondatore Alessandro Otti Che è tuo papà Esattamente Eccolo qua il Brera Football Club Lo faccio vedere anche a favore di camera Per chi ci sta seguendo in video E quindi insomma Questa è la storia appunto Una storia diciamo solo al 2000 Ma che sembra veramente una storia di 200 anni Con le cose che avete fatto Esatto In realtà questo è appunto Infatti questo è dei primi 18 anni di storia Quindi figurati si ferma al 2018 Ok E non mancano gli ultimi sei anni Che hanno avuto un sacco di sviluppi Ma è comunque C'è comunque un sacco di storia dentro No dicevo Fino al 2023 appunto Siamo stati una squadra di direttanti a Milano Poi a seguito di un interessamento Di investitori americani Te la faccio breve Ci siamo quotati al Nasdaq Anche se tecnicamente non è una frase corretta Ma per semplicità di comprensione E quindi questo ci ha portato A voler portare Il progetto del Brian Nel professionismo Ok Visto che qua in Italia Portare il professionismo Quindi in serie C Vabbè Oltre ad essere molto oneroso Che però Quello I soldi comunque avevano raccolti Quindi Però era più Una venetarianità Di fare una terza squadra a Milano Nel senso che Questa terza squadra di Milano È In payoff Di ormai 24 anni fa Nel senso Ormai è un concetto abbastanza vecchio Ok Inter e Milano Sono talmente Consolidati in questa stratosfera Rispetto al resto Non sono neanche la prima La seconda squadra di Milano Non sono più di Milano Sono globale Sono squadre globale E quindi anche noi Tengono cercate di essere Una squadra globale Giusto No e quindi Diciamo Non c'è a Milano Uno spazio per una constituency Così Diciamo Affezionata Come dovrebbe esserci Nel professionismo Quindi invece Che è un'espansione appunto Verticale Abbiamo deciso di attuare Un'espansione orizzontale Quindi creare una serie di Ibrea In giro per il mondo Nelle massime categorie Di ciascun paese Anche se sono paesi Relativamente minori Tutte con lo stesso logo Circa Con lo stesso nome Con gli stessi colori Con la stessa identità L'idea era portare Una squadra di Milano Appunto A giocare nel mondo E' vero Il logo Il logo è sempre Praticamente lo stesso Visto che c'è La bandiera italiana Da una parte E dall'altra Da una bandiera in cui In un paese Esatto Poi sotto c'è scritto In no Perché poi sono ovviamente C'è una denominazione Geografica Diversa Però diciamo Quello è Esatto Quello è un po' Un ragazzo Mi piace pensare A una squadra di calcio Un po' come a un vino Con la denominazione Di origine controllata Esatto Non è complicato Perché noi siamo In Mozambico Io sono stato in Mozambico A novembre Sì A una finale Dei playoff Vediamo come sta andando In Mozambico Cioè qui le classi In Mozambico Siete decimi Sì Non siamo messi benissimo Ma è appena iniziato Il campionato Abbiamo iniziato Noi siamo una neopromossa Infatti dicevo Io sono stato A novembre Per la finale Dei playoff Di Serie B Che abbiamo vinto Ed era fantastico Dopo un solo anno Neanche un anno Di esistenza Uno stadio Era pieno Di tifosi Con una maglia Nero vera Mi sembra Di essere entrato In una dimensione Parallela Perché ovviamente O comunque Avete appena pareggiato Con la seconda In classifica Sì Con un gol A 93 Benissimo Il grosso punizione Tra l'altro Abbiamo perso 1 a 0 Con la prima In classifica No no Non stiamo andando male Tanti ragazzi Giovani Nazionali mozambicani Andano a 20 Dobbiamo Il talento c'è Obiettivamente Invece in Mongolia Ho visto che avete vinto 3 a 2 L'ultima Sì Ci siamo salvati Fuori casa E bisogna giungere un'altra Adesso Per il 15 giocato Conto il Deren Ho visto che quella Sono forti Ma ne abbiamo battuti In ultima partita Con un gol incredibile Anche lì L'ultimo minuto Di una ragazzina Che non aveva mai giocato Cioè Una storia un po' così Da film E No In Mongolia In realtà abbiamo preso Una squadra Che era Ultima Abbiamo preso Abbiamo fatto Il rebranding È stata la più recente A marzo La seconda parte Di campionato Perché in Mongolia Giocano Da agosto Ottomere Nove partite Ok Poi fa freddissimo Va a meno 40 Meno 30 la temperatura Quindi smettono di giocare Fino a marzo A marzo Ricominciano In questa tensostruttura Che è un po' alienante Ah ci giocano A coperto A coperto Sì 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 Per un mese e mezzo Giocano lì E poi Il resto Sono 18 partite Quindi Ne faranno 5 lì E poi Nel altro 14 Ce ne fanno Allo stadio Usano tutti Lo stesso stadio Che è quello della federazione Quindi è come fosse Un microstato Sostanzialmente Usano tutte In realtà Per le grandi Tre volte in Italia Ma sono 3 milioni Di abitanti Un paese stranissimo Infatti Non deve essere qualcosa Io verrò A fare una telecronaca Voglio venire A fare una telecronaca Del Brera Calcio Guarda Noi comunque Le partite Sono tutte Un lambatore Sono tutte in diretta Tra le partite Quindi in realtà Ci possiamo Attaccare col segnale Ci possiamo attaccare Col segnale A fare Un lambatore Uno dei grandi miti Della mia vita Grandi mette Che prima o poi Dove raggiungere No la cosa interessante Appunto però È che appunto Avete portato Questo brand Nel mondo Come sta andando Questa esportazione Totalmente italica Che è una cosa Che facciamo tranquillamente In altre situazioni Prima abbiamo nominato Armani Non è la Ferrari Non è un problema Nessun'altra azienda Avremmo detto Ma che roba strana Che fate Ad andare a portare Il vostro brand Anche un vino Ai cinesi Che ne so Ad esempio Senza Metterne in dubbio Il fatto che il vino A quel punto Che produca Produca e venda in Cina Non è cinese Ma è comunque Ciamata in cittadina Infatti Infatti Invece Quando avete fatto Questa idea Quando avete fatto Tutti Ma che roba strana Che cosa state facendo Poteva essere Più strana Nel senso Nel senso Che In senso Di fare Una roba del genere Cioè Potevi portare Il campionato Mongolo Qui in Italia Anche Quella Un'apparatura nera No Però In senso Appunto Che siamo Una squadra di Milano Che gioca Simultaneamente In tre massimi Siamo effettivamente La terza squadra di Milano In serie A Adesso Non più La terza squadra Di professionisti Perché C'è una In C Ma La terza squadra di Milano In serie A Certo Non serie A italiana Ma serie A del mondo E S'arriva stato più strano Se fossimo stati Ancora a Milano Perché Il senso Era proprio Questa sparizione Del contesto Milanese Locale In modo tale Che la squadra È di Milano Ma non gioca a Milano Perché voi a Milano Non giocate più adesso In realtà Non giochiamo più Ma adesso Stiamo Pensando a un progetto Che ha più Che fare con Diciamola Come A cegli americani Con il nostro Spirito ISG Cioè Con la nostra Spieghiamola Come si dice Vocazione E impatto sociale Ah ok Ok Più in italiano Ok E No Facciamo Ripartiremo Dan Proprio Dan basso Perché come siamo Partiti da un altro Nel 2000 Adesso invece Ricominciamo La nostra Scalata Da un punto di vista Calcistico Ma in generale La nostra esistenza Dan basso E Faremo questa squadra Con Tutti i ragazzi Universitari Ok Noi abbiamo sempre In questi 24 anni Si raccontano Le diverse vicissitudini E abbiamo fatto Tante cose Con diversi Gruppi sociali Sì infatti Era molto Cioè nel 2003 Nel 2003 mio padre Fece la I fani opera La barriera Che fu Un grande caso Mediatico E tra l'altro Appunto Un progetto Molto importante Che Richiese Una grande Mediazione Tra FIGC E il ministero della giustizia Ma Invece appunto Sugli universitari Abbiamo fatto cose Con Come si dice Con i migranti Con i migranti Abbiamo fatto La nazionale Dei Dei rom Dei rom E sinti Abbiamo giocato Contro la Padania Un'arena Benissimo Cosa che riescono Da un film C'è stato il campionato Del mondo Dei popoli Sì 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 Dovevamo partecipare Perché questa è una Standa di attenta Dovevamo partecipare Avevamo stati selezionati In Mondiale Seneva in Abkhazia Che è una Repubblica Indipendentista Perché sono infatti Tutti i campionati Dove ci sono Tutte le nazionali Delle repubbliche Non riconosciute Indipendentiste È un po' A metà Trang C'è la Catalogna Credo ci sia Qual è quella più famosa Diciamo C'è in Abkhazia C'è in Tibet C'è in Curia Ci sono sia Indipendizioni territoriali Diciamo Stonicamente Motivate Da un punto di vista Etnico Fondamentalmente Sia un po' Invece stati canaglia Un po' Come appunto In Abkhazia Questi posti Che riconosci Sono la Russia Giusto Forse è una bianorussia E Quando parli stati canaglia Pensavo Sper si parla Della padagna No Scherzo Scherzo Beh Non è ancora un esercito Invece in Abkhazia Non credo si è riconosciuto Nessuno Il problema è quello Invece in Abkhazia Sì Ha un governo Suo indipendente Infatti non si entra Dalla georgia Lo so bene È stato fermato A quel confine Dalla polizia georgiana Perché volevo Google Maps Mi diceva che facevo prima E quindi Ho detto Scusate Giro la macchina E quindi No Quella volta Quindi dobbiamo andare A volare su Sochi Ok E poi scendere giù Dalla Russia Per andare in Russia Per aver visto Siamo arrivato Il passaporto Ok Purtroppo nella nostra squadra Il passaporto Ce l'avranno in due Quindi Vabbè Pazienza Facciamo una richiesta A quest'una Motivazione Appunto Il caso di Franza Maggiore Te lo fanno anche In tre giorni E ci prendono in carico Tutti i documenti Ci richiamano Dopo qualche giorno Per dire Guarda Le 15 passaporti Le 15 richieste Che ci avete mandato In tre Possono avere il passaporto Gli altri 12 Hanno carichi pendenti Non era proprio Non era Non era Non era Non era Non era Non era affattibile Quindi in questo club de teatro Diciamo Devonviamo la nostra Partecipazione Alla padana Che invece È stata esclusa Questo gesto Di amicizia A patto Che facessimo Un amichevole Diciamo Perché Nell'arena A casa nostra Tra l'altro Tra le due nazionali Anche perché È un messaggio Nel giorno Della commemorazione Del proprio Rom Dell'orocausto Che adesso Non ricordo Come si dice In lingua romani Però Facciamo questa amichevole Perché Il senso del calcio Il potere del calcio Che è un grande Un strumento Di medicina sociale Imbattibile È proprio che Ha dei contenuti Dei significati Di eguaglianza Di rispetto reciproco Che sono Intrinsechi Senza farci troppe Sovrastrutture Cioè nel momento In cui scendi in campo Con una squadra La base del razzismo Nasce dalla Perché sto divagando Ma comunque La base del razzismo Nasce dalla Diciamo Mancata Considerazione Dell'interlocutore Nel tuo stesso livello Nel momento In cui sei su un campo Da calcio Al di là del risultato Sei Per forza Ontologicamente Questa cosa Che lo sport In questo caso Il calcio Ma ricordiamo La storia Del rugby In Sudafrica Cioè comunque Riesca A lineare Ad abbattere Barriere E ad allinearsi Tutti sullo stessa Lunghezza d'onda Per poi dopo Magari dialogare Anche su cose Che invece Vivono fuori dal campo Secondo me L'importante È conoscere Lo sport Nel senso Che alla fine Poi fanno Una cosa Un pupazzo E rischi di essere Danneggiare Allora Leonardo Rimandi qui con noi Perché adesso Andiamo con una canzone Poi ci ritorniamo qui Per i saluti finali Ma io spero E vi auguro Prima o poi Di trovare Il bra calcio Anche in uno Di quei videogame Che si usano Sarà bellissimo È fantastico È mio sogno FIFA 2027 L'allungo un po' Così per comportare sfiga E posso scegliere Il bra calcio In qualsiasi Nel mondo C'è qualcosa Poi mi prendo messi Me lo metto dentro C'è qualcosa del genere Perché questa premessa Perché vabbè Vi faccio sentire Una canzone dei Blur Che molti di noi Soprattutto Se negli anni 90 Giocavano a FIFA Si ricorderanno Perché era proprio L'inizio del gioco Sto parlando di Blur Con Song 2 Select player Brera calcio Così dovete fare Con la Playstation Ma chissà che magari Non si farà Questa era Blur Erani Blur con Song 2 Siamo qui ancora Con Leonardo Per parlare appunto Di Brera calcio Insomma Leonardo Leotti Club manager E' appunto La tua squadra Cosa possiamo fare Noi milanesi Per avvicinarci Al Brera calcio Invece Allora intanto Seguirci su tutti i social Che è sicuramente Un ottimo viatico Per conoscere meglio La squadra Poi abbiamo un sito Con tutta la storia Quindi se una gente Interessata A approfondire Ha fatto anche molto bene Il sito Molto interessante Grazie Grazie Passerò E' appunto Ai tì Questi complimenti E dopodiché Effettivamente Uno dei grossi limiti Che abbiamo avuto Quest'anno Ed è infatto Di non avere una squadra A Milano Perché effettivamente La Macedonia È comunque vicina Sono un'ora Da un'ora e venti Da Milano Saronicco Quindi si arriva comodi Poi si mangia anche Molto bene Per strada E' piacevole Però effettivamente Non è per tutti i weekend E Mozambico e Mongolia È una volta nella vita È un po' come Il peregrinaggio Alla Mecca E Però noi L'anno prossimo Appunto Come ti dicevo Torneremo A fare una squadra a Milano Da Scasso contenuto calcistico Devo dire Questo Non so se puoi Che significa Che cosa Cosa significa No no In realtà Non è vero Diciamo Io cerco sempre Di Sminuire Questa Quest'operazione a Milano Perché noi Siamo in serie Nel resto del mondo Quindi essere in terza categoria A Milano Obiettivamente Se la mettiamo Dal punto di vista calcistico Però non credo sia quello L'obiettivo milanese Giusto? No infatti Secondo noi Il calcio deve creare comunità Appunto noi Puntando su questa Giovane comunità Di università Milanesi Ce ne sono tantissime Abbiamo tantissime Ottime università A Milano Quindi La gente viene da fuori Apposta per studiare E vogliamo Puntare sulla qualità Che questi Calcisti Che in questo caso Che questi studenti Offrono E abbiamo anche Un ottimo allenatore Un ragazzo inglese Che allenava Jadon Sancho Che adesso è in Champions League Però Lo allenava Van Watford Nell'Under 15 Quindi Il contenuto calcistico C'è A volte di Under 15 E di giovanissimi In realtà Uno dei progetti Che continuate a portare avanti Dal 2006 Dal 2006 A Milano È quella della scuola calcio Però Dove però Forse anche lì Scuola calcio Andiamo a dire Scuola calcio non competitiva Ecco perché Spieghami bene questa cosa È molto interessante Non competitiva Poi è sempre un po' Un misleading Il tema è Che questa è una scuola calcio Ludica Cioè fatta per il punto Il divertimento dei bambini Che è un Che a Milano Diciamo In generale in Italia È un concetto Che va in contratendenza Con le scuole calcio Che ci sono Nel senso che poi Le scuole calcio Sono tutte gestite Da squadre di calcio E quindi Servono alla formazione Di piccoli calciatori L'obiettivo sempre è quello Che era il grande campione Che poi mi porto Nella prima squadra Sì Quello era il sottotesto Diciamo vale Invece noi no In realtà Questi vengono I bambini vengono Come se fosse Una lezione di tennis Io mi ricordo Facevo tennis Muoto da bambino Non ho mai pensato Di fare gare Di diventare Michael Phelps Però Andavo Facevo la mia lezione Di un'ora Un'ora e mezza E poi tornavo a casa Questa scuola calcio Rispetto a un'altra scuola calcio Ha questo tipo di contenuto Nel senso I bambini vengono Fanno allenamenti Una volta Due o tre settimane A scelta loro Di un'ora e mezza In cui fanno un po' Di esercizi Per mezz'anetta E poi giocano tantissimo Che un po' Diciamo Io sono abbastanza giovane Da non ricordarmi Anche se giocavo I giantinetti Ok Però Come quando si giocava Al parco Con gli amici Che adesso In Metropolitano come Milano Non è più francamente possibile C'è Tutti i temi di insicurezza E invece Qui è possibile Ed è possibile Nel contesto Più bello Che possa essere Nel senso che Siamo Un'arena civica Un stadio di Napoleone Oltre duecento anni di storia In pura centra di Milano E i bambini Vengono Tanto il comune Ha fatto un ottimo lavoro Facendo il campo E la pista Quindi È un posto stupendo In cui Poi sono tutte Giate di sole Purtroppo non ne abbiamo Moltissimo Ultimamente Non è detto Secondo me Ottobre novembre Avevamo un sole Pazzesco Ovviamente È tutto sfasato È tutto ormai sfasato Infatti E quindi Sono Diciannove anni Che andiamo avanti Siamo partiti da questi Vedi Nel libro c'è la foto Forse c'è anche il mio fratello Ah sì Questo è il mio fratello Da questi dieci bambini E adesso ne abbiamo Duecento Quindi diciamo Sei voluta La situazione Insomma Un altro buon motivo Per attifare Per la calcio Per noi milanesi Appunto Non è tanto Per me è anche interessante Questo Tifare una squadra Non tanto perché ci porti Chissà quale risultato Immediato Nel campionato Ma per lo spirito Che porta avanti A Milano Con questa scuola calcio A Milano Con le iniziative Poi appunto La squadra universitaria È molto interessante Che inizia con il prossimo Campionato Il prossimo campionato Settembre E con invece Le tre squadre Nel mondo Rimarranno tre Volete prima prendere Più di tre Ponderanno a due Il mio sogno È andare anche in Oceania Abbiamo avuto Non so Prendo da NDA Quindi posso dirlo Abbiamo avuto Un mezzo Contatto Con la federazione Delle Figi Se è un progetto Fighissimo Purtroppo Ebbè ovvio Le Figi Non può che essere Fighissimo Scusate Scusate Ciao Grazie a domani Grazie Scusate Però purtroppo Non è andato a buon fine Più per questioni Nuo organizzative Dovranno partecipare A un super Campionato Dell'Oceania Poi la federazione Oceanica Non si è Organizzata In tempo La squadra di Bollate Che deve andare A Pavia A giocare Già problemi Lì devi prendere Aerei Navi Le Figi Da Milano Ma più che altro Avevamo partecipato Come rappresentanti Delle Figi In questa Pro League Oceanica Quindi giocavamo Con la nuova Zerlanda Un sacco di aerei Dovranno partecipare Infatti Va bene Allora Grazie mille Grazie mille Seguite il Bracalcio BreraFC.com Alle otti La squadra del Bracalcio E anzi Saluteci tutta Dal Bracalcio Allora va bene Assolutamente Vi salutiamo Tutti i nostri tifosi In tutto il giro Per tutto il mondo Infatti A tutti quanti Dopo di noi Senti questa Con Ambrogio Curti Come sempre Alle 9.05 Anzi oggi In ritardo Perché noi siamo in ritardo Dopo il giornale radio Con Senti questa Ambrogio Curti Noi torniamo Come sempre Domani mattina Dalle 7 alle 9 Qui in diretta Su Crystal Radio 96.2 FM Da Plasti Tutta la Lombardia Le applicazioni Il sito Lo sapete Se volete risentire L'intervista Con Leonardo Leotti E il Bracalcio Potete farlo su Goodmorning Punto Milano Punto IT Dove ritrovate Sia l'audio Il podcast Sia il video Ci trovate anche Su Spotify Insomma è impossibile Non trovarci Siamo un po' come Il Bracalcio Siamo ovunque Adesso ci pensiamo Facciamo un Com'è che si chiama Stumica Stumica Stumizza Il posto Di Macedonia Esatto Elisa prepara Goodmorning Stumizza Dall'anno prossimo Io te lo dico C'è un po' come C'è un po' come C'è un po' come